Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani e oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la state guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Vi chiedo durante la preghiera di protezione di chiedere all'Arcangelo Michele e ai vostri angeli qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Potrebbe essere solo uno oppure più gruppi, ok? Bene, iniziamo con una preghiera di protezione all'Arcangelo Michele per sintonizzarci nelle frequenze più elevate in assoluto. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco a te Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, coscienza micaelica e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e l'energia del luogo in cui ci troviamo e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Con amore vi chiedo di aiutarci a radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e di aiutarci a creare uno scudo di protezione completo impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione fisica, psichica in tutti i livelli per me e tutte le persone che con tanto amore seguono la lettura angelica. È fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia, ora per sempre e per l'eternità. Ok, vediamo un attimino. Gruppo A. Prendi le distanze da questa situazione. Vediamo il gruppo B. Amore eterno. Gruppo C. Ecco, è spuntata la carta. Lavoro di guarigione energetica. Vediamo un attimino il secondo mazzo. Eccola qui, gruppo A. Le tue preghiere sono state ascoltate. Gruppo B. Diciamo che la strada è aperta. Ok, vediamo. È interessante questa lettura del gruppo B. Ecco, gruppo C. Credi nei tuoi angeli. Vediamo ora il terzo mazzo. ecco qua. Gruppo A. Natura, anima infinita. gruppo B. Gentilezza. Gruppo C. Miracoli infiniti. Bellissimo. Bene, bene. Allora, iniziamo col gruppo A. Devi prendere le distanze da questa situazione. Sei troppo ossessivo, sei troppo ossessiva, vuoi tutto e subito, hai le manie di controllo, vuoi essere tuo a gestire le cose al posto dell'universo e dell'amore divino e di Dio a qualche livello. Certo, sei divino, sei divino e umano insieme, ma gli eventi sincronici e perfetti sono orchestrati dall'intelligenza dell'universo. Quindi abbi fede e fiducia che tutto, diciamo, è un disegno perfetto e tutto si sta manifestando in base alle tempistiche divine che non sono le tue tempistiche umane. Quindi lascia andare il bisogno di controllo, anche perché, guarda, le tue preghiere sono state ascoltate. È solo una questione di tempo, è solo una questione di sincronicità che si devono allineare per la manifestazione dei tuoi obiettivi. Mettiamola così, vai un po' nella natura, distaccati un po' dal caos, da queste energie troppo frenetiche che ti stanno un po' incasinando e ritorna al centro, vai nella natura. La natura serve per riarmonizzarti, la natura serve per sintonizzarti nella frequenza dell'amore puro, della pace interiore, della gioia infinita, della bellezza, della gentilezza. Hai proprio bisogno di questo e vedrai che tutto si sta allineando in tuo favore, quindi non ci sono informazioni negative, ma solo positive. Devi solo uscire dal controllo e dal caos. Passiamo al gruppo B. Anima infinita, quest'anima per cui stai ponendo la domanda è una persona di fiducia, una persona allineata al tuo cuore, siete spiriti affini, la vostra anima è un amore eterno che vi connette, che vi lega, quindi c'è un grande amore nell'anima e per questo che senti questa familiarità, questa connessione così empatica, così potente tra voi due. è ok, la strada è aperta, quindi possibilità e grandi opportunità stanno manifestando nella tua vita, veramente, assolutamente la via della gioia è aperta per te, quindi stai seguendo la direzione giusta, continua ad andare in questa direzione, sii più gentile, gentile con te stesso, con te stessa e con gli altri, quindi per piacere, fai agli altri quello che vorresti che gli altri facessero con te, quindi sia amorevole e gentile, perché la tua natura è amore, non è rabbia, non è controllo, non è imporre qualcosa agli altri, assolutamente, lascia andare tutto questo, guarisci con l'oponopono, guarisci col perdono, guarisci con lasciare andare, guarisci con la gentilezza, veramente, hai bisogno di ritrovare quella sensibilità innata che è già dentro di te e questo appunto ti consente di far sì che anche gli altri siano più gentili nei tuoi confronti, quindi sii tu in primis amore puro, va bene, gentilezza, cortesia, delicatezza, è proprio richiesto questo, gli angeli sono gentili, gli angeli sono amorevoli, gli angeli sono amore puro, proprio come te ti stanno invitando a riconnetterti con la tua vera natura di amore, ok? Bene, gruppo C, molto interessante la lettura del gruppo C, in quanto assolutamente hai bisogno di connetterti con energie di guarigione, hai bisogno di ricevere delle sessioni di riequilibrio energetico o tu stesso come guaritore, guaritrice, quindi come operatore olistico devi migliorare la tua formazione, la devi completare, devi trovare un maestro, una maestra fine alla tua anima che ti possa insegnare delle tecniche più adatte al tuo nuovo essere, hai già studiato tanto, hai già imparato tanto ma adesso è venuto il momento di fare un upgrade, quindi chiedi di aiuto a Dio all'Arcangelo Michele di guidarti in questa direzione, lo stesso vale se hai bisogno di fare delle sessioni di guarigione energetica, quindi fidati degli angeli, della sincronicità divina che sta arrivando anche attraverso questi messaggi, gli angeli ti stanno guidando in una precisa direzione, diciamo che tu sei anche un operatore di luce, un operatore olistico, insomma sei una persona che può fare la differenza in questo pianeta, quindi devi assolutamente fidarti, affidarti alla guida divina che ti sta guidando in una direzione precisa, seguila, non pensarci due volte e fai quello che senti giusto nel tuo cuore, miracoli infiniti alle porte, sincronicità divine stanno entrando nella tua vita, eventi sincronici e perfetti stanno arrivando nella tua vita, le tue perghiere sono ascoltate, ok? Quindi assolutamente apriti a ricevere perché grandi opportunità stanno entrando nella tua bellissima infinita vita, ok? Bene, prima di concludere vorrei prendere un messaggio da questo libro, chiedo agli angeli, all'arcangelo Michele, guida ed assistenza affinché possa portare il messaggio più giusto per il maggior numero di persone possibili, grazie, così è. Ok, puoi cambiare il tuo futuro ora, bellissimo questo messaggio, vediamo un po', un diverso atteggiamento nei confronti della vita, un diverso modo di osservare ciò che ci circonda, produrrà notevoli ed interessanti cambiamenti, consentirà di ribaltare ciò che prima sembrava un punto inesorabilmente fermo. Anime infinite, quello che io vi consiglio veramente, credo che, vorrei fare dei video diciamo con delle affermazioni positive, potenzianti, in base all'argomento, ad esempio argomento salute, argomento abbondanza, argomento relazioni così, un attimino per aiutarvi a riprogrammare l'inconscio, in quanto veramente gli angeli, in particolar modo l'arcangelo Michele, mi sta invitando veramente a lavorare tanto con le affermazioni e col tapping, insomma con le varie modalità di riprogrammazione, perché questo è determinante per cambiare assetto, per cambiare mindset, per cambiare consapevolezza, per cambiare la nostra realtà, è un dato di fatto, molti lo sanno qui ma poi non lo applicano, è inutile sapere le cose e poi non metterle in pratica, quindi vi consiglio veramente di lavorare con affermazioni, tapping, grazie, insomma fare un grande lavoro di riprogrammazione se volete cambiare la vostra vita, se non siete in grado di fare da sole, o perché non avete voglia, o perché non vi sentite pronti, non avete la forza, perché non seguire un programma, un percorso di coaching, assolutamente potete fare dei percorsi con me, anche se io ricevo veramente pochissime persone one to one, però diciamo che domani, volevo informarvi, domani inizierà il percorso di nove settimane, dove praticamente è un percorso di guarigione con le nuove frequenze di luce, ma anche con logo sealing, per liberare purire e riprogrammare l'inconscio, quindi se sentite questa chiamata di voler migliorare la vostra vita, questo percorso potrebbe essere utile per voi, quindi contattatemi perché inizierà domani alle 19.30 per nove settimane, la classe è già completa, però posso accogliere altre due o tre persone, quindi assolutamente vi aspetto, ok? Anime infinite, vi auguro una settimana meravigliosa, vi abbraccio col cuore e ci sentiamo presto, buona settimana a tutti, ciao ciao!